L'ultima fatica della stagione vede in campo domani alle 16 il Caffè Toraldo, ospite del Lima Grosso Conversano, con Paggine Pugliese già retrocessa in Serie B. Una gara senza particolari significati quindi che servirà solo per onorare fino in fondo il campionato. La squadra del Presidente del Girolamo con soli 14 punti ha abbandonato presto la categoria ottenuta quest'anno con il ripescaggio, mentre il Marcenese Marigliano ha ottenuto la salvezza con due turni d'anticipo. Entrambe reduci di una sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale di mercoledì, gli azzurri ad opera del federino di Coda Giovinazzo che con il 4-3 inflitto nel derby ha ottenuto i primi tre punti della stagione, mentre la squadra di Orange è sacceduto il passo in casa della FinPlanet Fiumicino per 6-3, dunque andranno a caccia di un riscatto. Non dovrebbe tornare in tempo l'argentino Cavigli impegnato con la nazionale argentina. Da valutare le condizioni di Giglio Fiorito uscito alla fine del primo tempo con il Fiumicino per una sospetta sindrome influenzale e in ogni caso sarà dato ulteriore spazio a chi di solito ha avuto minore minutaggio come Tozza, Unfer e Maggio, oltre ai giovani Russo, Amendola e Battistone. Finita la gara, poi pochi giorni di relax per godersi il meritato riposo e subito lavoro per programmare la nuova stagione che vedrà protagonista ancora in A2 il Caffè Toraldo, annunciato già qualche settimana fa l'ingresso in società di Federico De Candie con il suo Napoli Arpino per la stagione 2010-2011 che rafforzerà soprattutto il settore giovanile che con l'Under 21 quest'anno ha già avuto buoni risultati. Primo tassello di maggiore solidità quindi ad un progetto che vuole consolidarsi nel tempo e migliorarsi anno dopo anno.